Dallo scudetto alla Supercoppa italiana, un'altra vittoria per Limoco Vole con Eliano in una squadra che si è rafforzata, che punta a vincere tutto. Sofferta la vittoria ma decisa contro Ligor Golgonzola Novara ed è il primo successo per Samantha Fabris, una delle lidere della formazione di Daniele Santarelli. Che grande vittoria! Sì, grande vittoria, siamo contenti e posso dire un bel inizio stagione. Iniziare in questo modo vuol dire puntare veramente a tutto? Sì, noi puntiamo sicuramente a tutto, arrivare a tutti gli obiettivi il più alto possibile. Ci lavoriamo per questo e abbiamo iniziato bene, come ho detto. Possiamo dire che questa con Eliano è come se fosse una doppia formazione? Sì, è doppia. Ogni ruolo è coperto, siamo una squadra di 15 giocatori e ognuna dà il suo contributo. Devo dire che le elementi sono una roba di altissimo livello. Per Samantha Fabris qual è l'obiettivo di questa stagione partita nel migliore dei modi? L'obiettivo era la Supercoppa, adesso è Coppa. Step by step.